Se si ha una vita in contatto con la natura, non ci si arrabbia, non ci si annoia, non ci si stanca. Si ha una sensazione di benessere, non si pensa a una mancanza di obiettivi. Se si vive in simbiosi con la natura, ci si sente felici. Hai capito bene come si fa se un sì impersonale incontra un riflessivo? Come si scrive? Questo è un sì impersonale, no, come si scrive. Non c'è un soggetto preciso. Come si dice? Si dice così. Come si traduce? Come si pronuncia? Eccetera. Ok, questo è il sì impersonale. Poi abbiamo però il riflessivo. Io mi sento bene, per esempio, no? Questo è un verbo riflessivo. Io voglio essere impersonale, non voglio dare un soggetto a questo verbo riflessivo. Come dico, si si sente? No. Semplicemente il sì diventa ci. Ci si sente bene.